Oggi parleremo delle nutrizioni in estate e perché è importante in alcuni casi utilizzarle. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore innovatore in questo settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di presentarvi delle novità che vi servono ad affrontare l'apicoltura in modo efficace e nuovo, adatto ai tempi moderni. Se volete saperne di più, avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. E ora entriamo nell'argomento. Allora, premetto che nel corso del tempo abbiamo ideato e sperimentato delle formule mangimistiche, perché si parla di formule mangimistiche per le api, che potete produrre artigianalmente nel vostro laboratorio o nella vostra casa. Perché produrre queste formule artigianali anziché prenderle già confezionate? Io vi parlo della mia esperienza. Ovviamente non posso parlare di tutto, parlo della mia esperienza. Io anni fa ho acquistato delle nutrizioni presenti sul mercato e mi sono ritrovato molto molto insoddisfatto, perché non ottenevo il risultato. Cioè le api non gradivano troppo questi prodotti e quindi spendevo i soldi e non ne ricavavo niente. Da lì capì che chi aveva creato le nutrizioni che aveva utilizzato non ne capiva niente né di api né di chimica degli alimenti. Allora io conoscendo bene le api e anche abbastanza bene la chimica degli alimenti iniziai a sperimentare, impastare, somministrare, provare, verificare. Perché la nostra apicoltura è sempre così. Noi possiamo formare perché abbiamo sperimentato. L'innovazione viene sempre dalla sperimentazione. Questo in tutte le attività lavorative. Tutte le attività sono così. Dove c'è innovazione c'è sperimentazione. La sperimentazione comprende il lavoro e investimento di denaro per sperimentare. Quindi tutto quello che abbiamo fatto si è evoluto nel tempo perché l'apicoltore non è fare soltanto una o due cose ma è conoscere tutto l'aspetto che riguarda l'apicoltura e la vita delle api. Quindi abbiamo fatto varie formule, le abbiamo sperimentate e siamo arrivati a delle formule importanti. Importanti perché? Perché sia sulle nutrizioni liquide che sia sulle nutrizioni solide nel campo delle nutrizioni liquide abbiamo trovato il sistema di somministrare una percentuale zuccherina elevata con un minimo di acqua senza avere il problema della cristallizzazione del prodotto liquido all'interno della soluzione zuccherina. e allo stesso tempo avere un prodotto che sia molto appetibile per le api e quindi che possa essere consumato brevemente perché la cosa importante quando si somministrano delle nutrizioni specialmente le nutrizioni liquide è che il tempo che trascorre dalla somministrazione alla lavorazione effettuata dalle api quindi la raccolta del prodotto l'aggiunta dei loro enzimi e l'eventuale posizionamento all'interno dei favi deve essere breve perché la percentuale di acqua anche se facciamo una soluzione zuccherina che può essere intorno al 30% di acqua è sempre più elevata della percentuale di acqua che c'è in un miele maturo quindi la lavorazione delle api stesse deve essere veloce, breve, nel tempo perché le api gli danno quel qualcosa in più che permette al prodotto di conservarsi di conservarsi e di essere capitalizzato all'interno del fano un qualcosa di diverso ma comunque ugualmente importante riguarda le nostre formule riguardanti i canditi i canditi quelli che provai io che sono per certi aspetti molti di quelli che avete provato anche voi o che magari proverete avevano il problema che dopo l'apertura della confezione magari le api ne mangiavano una parte e poi rimaneva il mattone di zucchero duro come un mattone appunto cioè acquistare un prodotto che ha un valore alto rispetto a quello che è lo zucchero per uso alimentare umano e ritrovarsi poi in qualche cosa che è inutilizzabile non è un vantaggio per nessuno in più la nutrizione zuccherina deve avere anche un valore biologico un valore biologico che in qualche maniera stimoli un pochino anche anche l'ovodeposizione non in tutti i periodi dell'anno in piano inverno non è a seconda delle zone addirittura può essere negativo stimolare l'ovodeposizione mettiamo le zone alpine le zone appenniniche dove c'è la neve in certi periodi dell'anno vanno nutrite le api ma non bisogna stimolare la deposizione in altri periodi invece magari conviene stimolare l'ovodeposizione in qualsiasi luogo si lavori che sia la montagna o che sia vicino al mare quindi abbiamo messo in campo sperimentato e creato delle formule valide che siano appetibili molto appetibili dalle api abbiano un valore nutrizionale considerevole per le api e allo stesso tempo non devono essiccarsi dopo l'apertura della confezione cioè il prodotto stesso deve essere portato a termine dalle api senza che rimangano dei residui non utilizzati e questo è un risparmio allo stesso tempo l'acquistare in modo autonomo le materie prime e prepararle impastarle è anche questo un risparmio perché la vostra mano d'opera sì è vero è tempo perso tra virgolette quella che voi utilizzate diciamo che impiegate per preparare queste nutrizioni però sono specialmente sulle nutrizioni solide sono tempi che voi potete impiegare in fase invernale quando con le api siete meno attivi o addirittura siete a riposo potete preparare delle nutrizioni solide che poi possono essere immagazzinate e utilizzate in primavera estate autunno fino all'inverno successivo e ora veniamo all'argomento vero e proprio di questo video perché è importante nutrire in estate in certe zone d'Italia in molte zone d'Italia nel periodo adesso siamo in agosto luglio agosto settembre sono già periodi morti dal punto di vista dell'apicoltura perché le fioriture finiscono specialmente le zone che si trovano al livello del mare vicino e prossimo appunto al mare possono essere siccitose molto calde dal punto di vista delle temperature e quindi non abbiamo le api cominciano anche a impazzire tra virgolette impazzire perché perché gli apiari una condizione di un apiario non è una condizione naturale non sono api allo stato selvatico per cui possiamo pensare che nei tempi passati quando nei boschi c'erano molte piante secolari ci fossero magari un alveare ogni chilometro quadrato un apiario da reddito o che sia anche per uso obistico è un qualche cosa di naturale perché è una concentrazione di alveari superiore a quello che sarebbe si creerebbe in natura di conseguenza noi abbiamo la necessità due necessità fondamentali in estate fornire quel minimo di nutrienti che le riesca a mantenere in vita con una certa vitalità e poi dobbiamo arginare il saccheggio cioè impedire proprio il saccheggio perché quando le api si trovano in crisi alimentare praticamente vanno a saccheggiare le famiglie forti vanno a saccheggiare i nuclei le famiglie più deboli tutto questo non deve accadere quindi in fase estiva dobbiamo valutare anche il tipo di nutrizione da somministrare allora utilizzando i canditi commerciali che ho utilizzato anch'io in estate non si ottiene nessun risultato con i nostri canditi solidi che abbiamo creato noi si possono alimentare le api anche con il candito possiamo alimentarle anche con lo sciroppo nostro sciroppo ma dobbiamo comunque valutare se utilizzare o lo sciroppo o il candito perché noi possiamo fare anche produrre anche artigianalmente uno sciroppo molto appetibile però allora se io ho se voi avete un apiario che comprende anche 50 alveari tutti forti potete anche decidere di somministrare dello sciroppo molto appetibile ma velocemente a tutti gli alveari perché comunque sia anche se tutti gli alveari sono forti e tutti gli alveari sono in grado di difendersi dal saccheggio in ogni caso inneschereste una condizione di saccheggio con la nutrizione liquida molto appetibile quindi la nutrizione liquida appetibile va bene può andare bene in estate appunto in condizione in cui l'apiario è equilibrato e sono tutte famiglie forti di un certo numero e siamo in grado di somministrare lo sciroppo velocemente magari in uno o due ore a tutti gli alveari allora può avere un senso se l'apiario è misto dove ci sono nuclei famiglie forti e una grande carenza di alimenti di nettare in natura la somministrazione liquida può essere rischiosa perché può creare una condizione di frenesia alimentare tale per cui le api alla fine sono saccheggiate dalle vostre stesse api o dalle api di qualche vicino che è distante magari un chilometro o due da voi ma comunque sia sentirebbe la presenza dello sciroppo e verrebbe a saccheggiare quindi la valutazione va fatta in base a quello che avete voi in base al vostro territorio e alle condizioni in cui vi ritrovate ad operare così come possiamo somministrare una soluzione scusate no una soluzione un candito appetibile con un valore nutrizionale più o meno alto che però non stimola il saccheggio come la nutrizione liquida fornisce comunque quella quantità di 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 zuccheri e di zuccheri e anche altre sostanze perché noi abbiamo ideato varie formule di candito che possono essere o semplici o integrate con tutti gli altri nutrienti quindi non solo zuccheri ma anche sali minerali vitamine proteine grassi in una minima percentuale quindi dobbiamo decidere cosa somministrare se somministrare una nutrizione liquida se somministrare un candito base o un candito integrato con tutto il resto dipende anche lì dalla situazione dipende da quanto tempo deve passare per la fioritura successiva perché se dovesse passare poco tempo magari avremmo una necessità di far crescere iniziare a far crescere gli alveari dal punto di vista numerico quindi della covata prima che inizi la fioritura utile sono tutte valutazioni che vanno fatte caso per caso e quindi per vedere la prima lezione gratuita avete il link in descrizione potete vedere la prima lezione gratuita e la cosa che vi posso assicurare è che somministrare questi prodotti che abbiamo già sperimentato vi cambia la vita cambia la vita alle vostre api e cambia la vita a voi sia dal punto di vista della qualità del lavoro quindi dell'effetto che hanno sulle api sia dal punto di vista del risparmio in denaro e anche qui si ritorna come al solito discorso l'apicoltore deve sapere fare un po' di tutto di quello che riguarda l'apicoltura perché altrimenti è un operaio troppo specializzato e l'eccessiva specializzazione in un settore che come l'apicoltura che comprende tante spese può incidere in modo molto negativo soprattutto sulla qualità e sul il non contenimento delle spese necessarie per andare avanti e ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti